è arrivata anche lei è arrivata vieni sto a dormire mi vengo con quel ciuffolo ma lui è cantante ma lui è cantante che sono una marina che è cantante che è la cazzone no ma dai senti anche nonna mi dà ragione che son cantante son cantantino battene si 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 è venerdì si 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 è venerdì si 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 vaffanculo dai alzate bel peluche battene va via sembri un peluche guarda che hai fatto ma quanto sei stato bravo guarda guarda che hai fatto è f.. ma ti è sciacca è fatto novolo no stanotte oh quanto è stato bravo vatteneèèèèèèèèèèè che lei davvero te isup... perché sei scena ha fatto nuovo non ha fatto nuovo ma ti rendi conto stanotte che ha fatto bravo no hai fatto nuovetto bravo quanto sei bellino ma mangiamo oggi facciamo una frittatina a riovetto ma mi senti qui fa quattro come li sporgi mi tocca anche da me ma tu queste le palline tira queste le palline altro che si è migliorato un po sardegna è stanco simo basta è stanco è stanco dai è stanco aspetta che l'asciugiamo un po come sei così violenta sono tornato adesso non è tutto un gioco stamattina abbiamo fatto sto lavorando per pubblicare ma ora come un faticato mamma che fa così veloce ma ora ti 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 mamma mia ragazzi con marco che facciamo marchino attacchiamo l'etichetta di tarlettolife su youtube e instagram in realtà tu marco ne ha fatto niente ecco così almeno come potete scanna scannami papà come sei messo a sudoku però eh eh papà benissimo mangiato panino la porchetta no no sta dietro guarda quant'è in forma sei preso fa il colpo della strella come sta malissimo non ti fa male è troppo fisica messo su di qui guarda guarda che cucina funziona guarda che è qua youtube mio youtube hai visto perfetto funziona benissimo si a prova certi prova superata quella è instagram si vai senza vedere niente da mi domando perché cioè quando vado in giro con questa macchina mi riconoscono tutti come è possibile sta cosa cioè io non me lo so spiegare boh cioè l'avevo fatta per passare un po' inosservato cioè come fai a riconoscervi dentro sta macchina dai poi non ho gli occhi buoni perché come fai non fa nemmeno rumore cioè sembra metano boh e invece mi riconoscono tutti ma meglio così bravi suonatemi sempre oh eccolo senti che fa il pennello annaggia e panna sei lì ah come arrivano a casa rompi ma ti fa un pennello è ignorante come una valla che ti fa il pennello eccoci qua sei contento? è tanto fai una faccia contenta dai cammino fai una faccia contenta più contenta più contenta ma fai un culo oh così tu sei un testa di cazzo con la sgommata ti chiedo no ma perché sì tu è da Gipiano io dove va attraverso ma io fammi scendere che io al boccato ma perché ma guarda ma io ma io mica vuoi venire accascando la strada oh ah e poi mori intorno a letto non dalla macchina eh che ha fatto quello l'hai visto quello eh quello è un cornuto uno stronzo con s grossa quanto è quello della spigatola no ma perché eh come perché attraversa davanti a 4 metri saranno imbecilli oh eh fa come quando tu guidavi il camion io mi davo il camion non sapevi guidare che guidavi? ho camminato a 40 anni non mi è successo mai niente a me guarda questo ci sono ti conosce ti conosci? chi è? ma chi conosce? ti conosce? chi è? ecco nello chi è? ma non ne so chi è? ma vaffanculo è fondamentale è vero? è giusto fermati oppure anche mettili un po' anche mettecela ti idrata mette la mette la mette la tu stai fermo con le mani anche sui capelli no no non è questo non è questo non è stai fermo non è stai fermo mai mai perché ne la mette di qui eh? al cominci? comunque o no quant'è bella Sisi tutta bagnata si ne è meglio una bella sorca tutta bagnata ma ah 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 ti piace San Francesco? eh? ti piace San Francesco? eh beh è quello là ragazzi e poi San nostro dopo San Francesco chi c'è? ah sì sì eh e San Francesco c'è Santa Chiara poi? c'è San Rufino poi? e poi poi cazzo oh ecco mi mancava eh fracazzo c'è eh? eh eh c'è fracazzo sì andrà e' là dietro eh? e' là dietro mi sento sì 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 eh 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 Grazie a tutti